Wow, Ben 10, potessi sgavati! Sfingata, sfigata! Ma c'è il mio noggio, ti l'ho visto! Io non ho niente perché non sono io, però chi è l'impostore ha questa cosa. Ma come fa a sapere dell'orologio? Eh, perché lui è un grande fan. Ma chi è un grande fan? Ma perché magari lui è l'impostore? Effettivamente questa cosa che dici, Anna, potrebbe assolutamente essere ci può. Lion, fermati! Guardami negli occhi! Allora, io vorrei sapere chi è tra voi che è un grande fan di Ben 10. Io lo ero di brutto! Io sono cintura nera, di Ben 10. Allora, cico, però non devi smettere di inseguirmi perché a me mi sembra che sei tu il colpevole. È molto acusso, ti sta appiccicando! Non posso essere io perché avrei fatto sicuramente il verso di Ben 10. Ma qual è il verso di Ben 10, scusami? Oh, transformation! Bam! Sì, che io fa l'orologio. Lo farei di brutto. Oddio, è qui, ragazzi! L'hai fatto? L'hai fatto? L'hai fatto davvero? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ma cosa vuol dire come rotola? Ho il martello! Oddio, oddio! L'hai visto? L'hai visto? L'hai visto? Madonna, madonna, ma amici! Ragazzi, ascoltate che è il più presto! Oddio, l'ho visto! L'ho visto! Allora... Ma cioè, Ben 10 ha tante trasformazioni, giusto? Sì, ne ha tantissimissime! È tipo infinite! Ne avrà mille praticamente! Quello si chiama il rotolone! Rotolone! Come quello della carta igiena! Senti, bisogna fare una cosa. So che facendo le task sblocchiamo il martello che serve per distruggere dei muri. Io ce l'ho già il marcello! Ce l'ho, ce l'ho il marcello! Ok, è molto importante che l'abbiamo tutti quanti questo martello. È bellissimo! Ah, molto bene, molto bene, molto bene, perfetto. So che serve. Però devi stare attento perché il rotolone è innocuo. Ma quelli dopo ti pestano le mani in testa di brutto. Tipo chi, chi c'è? Tipo uno che ti sbredi a schiaffi che ha quattro braccia, un tuo muscoloso, super schatto. Ma sentilo che è sbredo! Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Il Dio santo no! Oh Dio, che non c'è quello! Madonna! Mi ha preso il braccio! No, no, qualcuno vada a premere il pulsantone! Oh Dio, cosa c'è? Cristo, madonna! È stato un devasto! Resistete? Mamma mia, amici, ho visto tutto. Allora, io c'ho una testimonianza gigantesca da dire. No, no, prima devo dire io, ragazzi. No, prima io fidati, fidati, dammi letta, ti giuro, è importante, te lo giuro. Anna, ma se io voglio parlare... Ma è importante! Eh, ho capito, però fammi parlare. Ma ti prego! Oh, ti banno, eh. Ho visto, ho visto Strecatto che veniva strascinato per terra... Ma hai visto che brutto? ...da un puglio colossale sgravato! Ma di chi era il vostro? Questo l'ho visto anch'io perché mi stavano inseguendo, ma io so chi è stato! Prego, Anna, adesso puoi... Però, però, la prossima volta... Finalmente no, era importante! Sì, ma la prossima volta aspetti che io ti posso dare il permesso di parlare, però. Non si fa così, questa è maleducazione. Prego! Va bene! Comunque, poi quando è stato annunciato, poco prima che venisse annunciato il mostro, io ho visto Alex che stava fisso in un angolo. Fermo, fermo! E me lo ho visto anch'io! Ma l'ha visto anche Giorgia! Silenzio, silenzio! La pari del foto a 4x4! Alex, silenzio cosa vuol dire? Lo so, hai ragione, però sei proprio stupido se finiva la parola. Sei stupido sempre! Non ti preoccupare di questo perché è tardi! Ah, così stavi scegliendo il potere da usare come Ben 10! No, 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 io stavo seguendo tutti i movimenti di Ben 10 perché stavo grande qua. Stupida creatura! Non è vero! Eri fermo, guardami l'angolo! Però, 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 io posso dire che anche Cico all'inizio era molto sus che sapeva dell'orologio. Posso esporre una tesi, scusami? Posso esporrela? Allora, escludiamo delle persone. Allora, no perché ha prebuto. No, no perché non sono morto io. No, stai immaginando le questioni tue. No, posso dire, però, devo dire, tu non puoi essere perché non sono morto. Infatti io, è morto, è lui! Non posso essere perché non ho fatto il verso. Allora, amici, facciamo così. Chi vuole votare Cico? Vota Cico o chi vuole votare Alex? Vota Alex! Ok! Votate Alex! Insomma, ognuno sceglie. Beccati questo pezzo! Wow! Devo dire che mi aspettavo che più voti fossero per Cico. Comunque se fossi stato io avrei ucciso subito Cico. È vero, anche questo, però se nel voto... Mi dispiace perché a quanto parerà Cico. È morto prima a tre, eri comunque sospetto. Attenzione, ragazzi, attenzione, Giorgia e Ben 10. Ragazzi, ve l'ho detto, deve essere... Cosa? Davvero? Ben 10, proprio io ho il potere di fare Ben 10. Com'è possibile che Giorgia sia Ben 10? Non ci posso credere. Cos'è successo? Cos'è successo? Che cosa è? Rega, oddio! Oddio! Cico è stato chiuso e adesso deve martellare. Incredibile, incredibile! Sta succedendo in pari! Oh mio Dio! Oddio, che cosa? Oddio, che cosa? Guarda, io ero qua dietro, ho visto tutto, è scappato dalla botola, eh? Oh mio Dio! È scappato dalla botola! Eeeh, ti piaceva? Oddio, che corra dall'altra parte! Corra dall'altra parte! È niente! Oh, mazza! Ma che possenza che... Si usa il martello, porco! Ma... Cico... È tutto un macaco pazzo, sgravazzo, bellissimo! E poi è diventato tutto un comulino di cenere, Cico! E poi però sei riuscito a rompere il muro di magma! Hai visto? Con il mio martello tutto durissimo! Sì, sì! Bravo, bravo! Va bene, adesso mi raccomando, il prossimo ben 10, usi le abilità facelle in gamba! Oh, tu prendi il martello però! Corrine, perché se ti intrappola! Sì, non hai fatto tutti i taschi! Devi fare almeno due taschi, mi sa! Cosa c'è? Cosa c'è? Stata volentieri! Mi hanno chiuso di nuovo! Uomo di fuoco! Uomo di fuoco! Già! Oddio! Adesso è l'interno! Perché? Perché vale l'uomo di fuoco! Oh! Cosa sta succedendo? No! Uomo di fuoco! Cosa è successo? No, è stata infuocata! Ma dove? Dove? No! Cosa c'è? Cosa c'è? È un bel impulsante! Uomo di fuoco! Oddio! Perché Alex ha rotto il gioco a tutti! No! Ma l'hai detto! Ha rotto il gioco! Alex ha rotto il gioco! Perché hai rotto il gioco brutto imbecille? Non volevo rompere il gioco, dai! Cosa hai fatto? Non piglia sempre tutto! Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Non lo so! Ha fatto... E poi non ce l'ho più! Fai veramente schifo! Fai veramente schifo! Che ci si buttesse... Potesse buttare fuori l'avremmo già fatto! Allora Anna che cosa volevi... Ma purtroppo Lion ha fatto sfoggio delle sue trasformazioni da ventenna di brutto! Ma dice a lui... Ma poi due volte di seguito com'è possibile? E Anna di brutto! Allora prima è diventato l'uomo fuoco e ha cercato di impedirmi di premere il pulsante mettendo un muro di lava! Bugie! Una dietro l'altra! Sì, è falso! Questo che ti dice Dara è falso! Perché io ho visto Lion andare in basso, l'uomo di fuoco è arrivato dall'alto e mi ha intrappolato di brutto! Quindi Anna... E infatti eravamo in caffetteria, se no come premevo! Grazie, è cico di questo palleggiamento! E poi allora, a favore di Lion, se non è morto nessuno non può essere lui! Bravo! Perché stiamo cercando di decidere me! Anna scusa, shut up and go to the void! Perché poi ti sei ritrasformato! Ma io ho premuto! Sei uno schifo! Ma io non voglio votare Anna! Io ho sentito il voto! Guardate quello che volete, insomma! Strei, però hai rotto... Allora, Strei, io te lo dico una volta sola! Lo so, ero io, colpa mia! Se capita un'altra mezza volta che noi dobbiamo aspettare te, io ti faccio fare la fine di Alex! Ero molto colposo! La fine è mia, vai, eh! Sappi bene! Ma perché non hanno votato Anna? Era palese! Io non capisco, non capisco, veramente sono scaldalizzato possiamo dire questo! Non lo so! Vabbè, state lontani da Anna ora! Sì, state lontani da Anna! Ma state lontani da Lion, altro che da Anna! Oddio, è di qua e di qua, ho visto il rotolare! Ma, ma... Ma non è vero, cosa vuol dire? Allora, io non avrei mai usato il rotolone, perché è il peggiore a quanto pare... Vi posso informare che non è buono! Scusate, scusa, che succede? Oddio, come l'ha schiacciato! Mi ha fatto diventare stupido! Mi sa che l'avevi già incontrato nella tua vita allora! Incredibile! Eh, mamma mia! Però mi sono svegliato! Va bene, che bello! Oddio, ho visto qualcosa volare! Oddio, cos'era? Superman? Incredibile! Non lo so, era tutto il tuo cuoco! Oddio, che è successo? Anna, che è la testa volta? No, incredibile! Eccolo là, l'ho visto! Cosa hai visto? Oddio! Ho visto andare giù quello... Oddio! Eeeh! Eeeh! Rotolone! Vabbè! E poi... Rottolone, mi è morto da matti! Andate a premere! No, aiuto! Adesso, crede, no! Ho giustato le luci! Oh, 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 oh! Ma pericolo, i miei brutti! Oh, 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 oh! No! Fermati! No! Ah! Piro, pericolo! Ah! Scappate! Sgabirlo, sgabirlo, pazzo! No, no, ci scappino! Oddio, no! 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 Mamma! Mamma mia, è bellissima! Ma in cui voi siete dei pusillanimi! È bellissima! Alex, vuoi rientrare o ti dobbiamo mandare la raccomandata? Non rientrano, sono rientrano, amico Lion! Che già fai schien... Amico o un accidente? No, no, sei un nemico, Alex, adesso, da oggi in poi... Sì, conoscente alla lontana, direi! Cioè, ma tu ti rendi conto di quanto tempo ti abbiamo dovuto aspettare, oltretutto? Lo so, Lion, no, che colpa... Ah, sì, è colpa mia, non voglio più! No! Sto vogliando! Cosa stavi dicendo? Cosa stavi dicendo? Non è colpa mia, però ho detto, no, no, infatti è colpa mia, non è colpa... Colpa tua, ha detto, scusatemi! Però stavi cercando di dire che non era colpa tua! Che affronto era mai questo? Senza neanche scusarsi! Senza neanche scusarsi! Caffone! Non ho sentito! Non ho sentito io! Scusami, Lion, non vado più via! È perché ho un caffone! Alex, la smetti di biascicare! No, no, non biascico neanche più! Così biascicare! Non biascico, va bene! Possiamo chiedere un favore? Belten! Belten! No, chi è? Che cosa sta succedendo? Allora, qua ci sono io! Questo è Giorgia, sicco, questa è Giorgia! No, non è vero! Ma Giorgia è stata con me! Non ho qui! Questo è l'imbecilo! No! Ma, 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 è morto! No! Ma guarda, sì! Non me l'aspettavo sinceramente questa cosa qui! Io lo sa, io ne avevo la certezza! Ma chi è? E chi è? E chi è? E chi è secondo voi? Chi è? Non ho io! Ma cosa? Giorgia! È la Giorgia! Stai zitto, stai zitto! Già! È un altro che non chiede scusa! È un altro che non chiede scusa! Scusa! No! Ok? Ma ti scusi! Io lo sapevo! Io lo sapevo! Sei uno scroto vivente! Ok? Ho capito! Adesso, il belte è più scarso! Che si abbai visto il tutto l'universo! Ma allora, allora, mi puoi fare la cortesia di non uscire tu nei ruoli delle cose? Eh? Eh, ma se esco di nuovo cosa faccio? Ma tu sei chissà il gioco! Ma tu sei chissà il gioco! Ma come fai? C'è, sempre! Sei un imbecille! C'è, ce l'ho proprio capito che il collettiva ti voleva toccare! Ma mi credi che sono lì! Ma te ne vuoi andare! Lo farò! Non sbaglierò più! Ma andassi pure dall'altra parte dove è l'ion! C'è incredibile! È l'unico che lo fa è uno stupido! Non è l'angolino! Ma poi per te ne è un figo! Ma morici nell'angolino! Non per te è lui, per te! Non può! Ma non lo so! Perché non vuoi difformare l'angolino? Ma eccessivo! Ma dove l'angolino mi trovate lì? Daí! Speriamo che nessuno ti porti da bene da mangiare! Adesso farà tutto meglio! Cosa ti ho detto 30 secondi fa Alex? Mi ho detto di non sbiascicare! Eh! Ma cosa stai facendo tu? Stavo sbiascicando ok? Però non mi piace! Lo stai facendo ancora! Basta! Oh! Scondite queste parole! Siamo nello spazio! Ma lei non le parole grandi! Hai capito perché? L'ho capito tutti! Perché è lui! Perché è lui! No, non sono io, lo giuro Sono uno bravo Ma chi è allora? Allora non hai neanche la giustificazione di essere tu Benten Cioè fai schifo Alex Non lo faccio più, lo giuro però Non faccio più schifo Possiamo evitare di dire non lo faccio più, lo giuro Perché mi fai sentire preso in giro Cioè sei anche uno spergiuro oltretutto Non lo faccio più Aiuto amici Dove, dove, cosa c'è? È Giorgia No, non è vero E' proprio sicuro Alex io sono arrabbiato con te No, non essere arrabbiato Siete uguali, siete due deficienti uguali Uno pensi dell'altro No, allora ragazzi Devo premere per forza Mi dispiace Era Giorgia, vero? Lo so Ma guarda Non ho impedita ma tantissimo Ma difenditi Ti dai la colpa ad Alex, no Ma io sono indifendibile Però può essere con l'avanti Giorgia fai schifo Ti tantissimo Ma scusa ma fai schifo Ma uno bravo oltretutto Ci può essere Lion, fai una cosa Prega qualcuno per far uscire me Io sono esperto Anche io devo uscire Cioè così sapremmo che sei tu Esce strecato Ed è fa schifo Ben Valer Ed fa schifo Mai più si fa Esce Giorgia e si trasforma davanti ad Anna Eppure tu l'hai fatto eh Sì ma dopo Però ha streccato tutti lui E poi non sei difeso Giorgia fai schifo Com'è possibile? Tantissimo Tantissimo Guarda proprio Io zero da fare Ben 10 Non me lo merito proprio Poi non ha fatto neanche il verso Non ci posso credere Io ve l'avete sullo scherzo Ma non lo puoi fare Che sennò ti scoprono Devi farlo Devi farlo per forza Che verso fa Ben 10? Almeno quando mi hai beccato Ah transformation Ma a me si spacca tutto il polso Sì è vero Non lo fanno tutti quando lo sono Esatto Qua è Alex sicuro Devi premere il polso Capito? Cioè non c'è Dai Alex si sta premendo il polso Ma per premere il polso? Non è vero Non so Non gli sto facendo le task Qualcuno vede Ben 10? No No Nessuna parte Non ancora Eh strano eh Non era Alex scusa Eh ci Che succede? Oh oh Hai fatto il verso Cico però eh Allora fratello io È qui È qui Ah sta volando L'hai visto Ammazza Non a me Non a me E qua tu pezzo Transformation Ti porto Dai ci chiamo il martello Amici Guarda che flexanza che sono Ti salto in dos Tutto Amm Amm Ma sentilo Si è casato Perché hai fatto tutti schifo Dai non mi fatti vedere Cioè tu ti sei trasformato Nel momento in cui io ero con tutti Allora Lion Ti seguono tutti Hai qualche aroma Secondo me Non mancavo io Il fatto che tu lo tenessi Fosse accorto Mi rende triste In realtà non ero con tutti Ma tutti hanno risposto Istantaneamente Tranne te Cico Allora io mi stavo guardando Era palese C'erano tante Non potevo mica parlare Cioè Allora Che schifo Tu mi avevi promesso Che se fossi uscito Tu sarebbe stato un round Emozionante Di forza E invece hai fatto pena Adesso l'emozione provata Era il disgusto Solo io posso essere Il bente in definitivo Cioè hai ucciso solo Strecatto E mi ha piaccio E mi ha piaccio L'ho toccato a te Che schifo Me l'hai anche tirato addosso Morto Che fa pure schifo Di brutto Che schifo Strecatto morto Era tutto spiaccicato Già puzza di morte da vivo Pensati da putrefatto Un odore Ma scusa Ma allora non ho chance E aude Scorre John Strecatto Che cazzone Torno nell'angolino Io non vorrei starci Cosa pensi Che direbbe di te Benten Eh veramente Direbbe Tu sei la trasformazione Peggiore che potrei fare Addirittura Sarebbe deluso Sarebbe sicuramente deluso Oh ho visto qualcuno rotolare Oddio Rotolone Ha cercato di schiacciare Alex No Rotolare mi sta rotolando Non ci posso dire dove Incredibile No puoi dirlo Di dov'è Di dov'è Il sedere mi sta rotolando Devo sedere Ma è durata È incredibile Non era quello È incredibile È incredibile È incredibile Cos'è No Ma cos'è Questo amore Lo sta spalmando L'ho lasciato Cosa ha fatto Oddio l'ho trovato È tutto inficcato nel muro No Ma dove 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 voglio vedere È vicino a Elettrica Guardate Madonna è stato Come uno scazzottato Oddio Ma Poveraccio Oddio guarda Guarda È scelta duro Amici Chi è che non c'è Alex No no Non posso essere io Che schifo Che schifo Infatti Cico Era interdetto E ha fatto tipo Oddio pezzo di pezzo E perché era Alex Che schifo Che fai Dubito il bottone Ma te cos'è che si trasforma ora Alex sei un orrore In teoria io avrei un alibi per Alex Davvero Eh sì Perché la ruota stava cercando di spiaccicare entrambi Allora non è lui Allora è stregato Non è un altro Io sono il primo che ho visto il tizio che rotolava Infatti voi l'avete visto anche tutti Giorgia non è che sei tu no Che fai schifo Di brutto È una scarsità indecente Proprio Esattamente Io non lo sono Una siccità di capacità Pazzesca Sono stregato Lion Mai non potrei neanche essere Insidiamolo Allora schippiamo però Perché se io volevo votare Alex Ma se Alex non è Non è che dobbiamo votare uno per forza È tutto confuso Come te È vero Molto confuso io però E infatti stai parlando da deficiente Sì Hai ragione E stai continuando No 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 Adesso basta No Lo stai facendo tutt'ora Come Come no no Eh sì Secondo me Bentenna deve prendere provvedimenti In questo momento Bentenna ammazza Giorgia immediatamente Che sta diventando deficiente Grazie Io ho ragione Qualcuno ammazzi Giorgia Magari muratela da qualche parte No no Oddio inferno Oddio un autografo Un autografo Ma cosa Cos'è successo Cioè guarda un autografo Da quello che sta cercando di ammazzarlo Ma Ma l'obiettivo era Giorgia Ma infatti Cioè Alex ha rubato La kill Ecco no Dai doveva morire Giorgia Che era deficiente Magari era invitante Alex Cosa ne sai Eh sì può essere Ma perché l'ha approcciato Oddio ho visto un fumaccio Cos'era Era Giorgia che moriva È brutto Giorgia Eh beh è giusto Era meritata come cosa Però Ma perché io non Cosa c'è Cosa c'è No Ti ho visto di brutto Ti ho visto di brutto No 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 Cosa c'è Sto Mamma mia Non vedete Non vedete come si gioca Finalmente Così 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 Non lo è Prontezza di tasti C'è l'esperto Dell'impostore Oddio qui È qui Questa è Anna È di brutto È forte Non sono io Guarda lì ti ho fatto il vero Ma non è così forte E fatti i complimenti da solo Eh effettivamente Però non è stata che è Anna Non era Anna Cosa vorresti dire scusami Alex Oddio Oddio Mi sento brutto su di ciune Alex Dove essere io Guarda Perché dovrei essere io Sto facendo le tasche Ragazzi non c'è dubbio È Alex Al cento per cento Convincimi Convincimi che non sei tu Dai Sto facendo le tasche Se lo giuro Che tasche Sto facendo quella dei fili Collegarli Sempre quella dei fili Incredibile Sempre quella dei fili Ma poi Benten Era in electrical Vai fuori Alex Non è vero Non so Non l'ho visto io Dai Alex Dai Adesso tu mi dici Cosa pensi che Benten Direbbe di te No Io ci ho provato Che ulio Non direbbe questo Alex Direbbe che fai schifo Che sei un riuscito È vergoglioso È peggioramento Che sei una verdogna Per il genere Bentens E tu sei una verdogna Bravo Tiango Complimenti Complimenti Oh laio sesco Io posso Sempre Chiunque può Ah sì Bellissimo Fin anche Giorgia Che fa schifo Di brutto Grazie Mamma mia Giorgia Però per cortesia Impegniamoci di più Non trasformiamoci davanti Alle persone No hai ragione Cioè gli occhi Una cavolata assurda Sfruttiamoli a pieno Per essere forti D'accordo Dai Mi aspetta Sei bravo O no No Io ho intergresso Non c'è nulla però Ma già adesso Cosa c'è Cosa hai visto Cosa hai visto No 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 Addio No è Cico Ma è incredibile Che spento Oh mio Dio Oh mio Dio Cico Cico è incredibile Questo Cos'è successo No le luci Cico è stato interrato Le luci Interrato E le luci Sono state spente Questo Ben 10 Sembra essere Possente È proprio tipico Di Lion Sembra che No Cosa succede No In bortana L'hanno messa a tacere Oh No Oh mio Dio No Cos'è No 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 Non posso scappare Non posso scappare Non posso scappare Dobbiamo preme Non ho il mortello Non ho il mortello No Oddio Dove mi porti Ram Ram No Ma dove mi Ma scusa Aspetta un po' Opla Opla Come hai fatto Come hai franzo Ti mollo qui Strecattino Ti mollo qui Strecattino Strecattino Qui a te lo do Papà però Papà pa Ti do un cazzotto Ecco qua Non ci riesco Oddio Sei inutile Ma come corri Bella bimba Vieni qui No No Faccio così No Di nuovo Non ci posso credere Roll pulsante No Ma ecco qua Ma è molto Potenziato Laio Non ho notato questo Per forza È impossibile Cioè a te ne hanno fatto Una posta per te Perché non è possibile Questa è pura abilità Allora noi ci fermiamo Ci vediamo stasera in live Giocheremo Alla modalità di Ben 10 Su Among Us Quindi Voi dovete venire alle 19 Sul sito Viola Link in descrizione Nel primo commento Altrimenti cercate Lion VGF Live E Lion Out Gio